Un aiuto alle persone anziane che vivono da sole e che nei mesi estivi vivono con più difficoltà la vita di tutti i giorni a causa del caldo e delle alte temperature. E l'attività svolta dall'Auser che con l'arrivo della stagione estiva ha potenziato alcuni servizi a sostegno degli anziani grazie all'attivazione del filo d'argento con il numero verde gratuito 800 99 59 88. Non solo, a Ispica da qualche mese 10 volontari aiutano gli anziani nelle faccente quotidiane dall'acquisto della spesa al servizio di trasporto per visite e terapie. Inoltre i volontari ascolteranno le richieste degli utenti indirizzandoli verso strutture pubbliche e private per la soluzione di problemi complessi. Questa è la fascia più debole dove hanno più bisogno tutti gli altri del conforto, di una telefonata, di un servizio. Noi per esempio se hanno bisogno di andare a fare la spesa, hanno bisogno di andare in farmacia, se hanno bisogno di andare dal dottore, alla camera del lavoro, all'ospedale, a modi, noi li portiamo gratuitamente. Il presidente dell'Auser di Ispica fornisce anche dei preziosi consigli per combattere l'AFA e prevenire patologie. Dalle 10 alle 16 di pomeriggio, anche alle 17, è proprio vietato uscire per le persone anziane perché il caldo di questi giorni è terribile. Poi bere moltissima acqua, non acqua ghiacciata, non aria condizionata perché certe volte puoi fare del male, mangiare molta frutta e verdura. Questo qui aiuta tantissimo l'organismo dell'anziano. Grazie. 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 Grazie.